musica 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 seconda partita di giornata, prima della Lega Calcio Statale si affrontano Locomotive Losca contro Santo Subito, Locomotive Losca con la tenuta da trasferta completamente bianca mentre Santo Subito tipica maglia nera vengono da due percorsi diversi Locomotive Losca ha vinto contro il Rewind la prima giornata 2 a 0 la Statale invece li ha battuti per 4 a 5 nella scorsa partita dall'altra parte invece due sconfitte consecutive contro Don't Smoke Milano e Sport in Bisanzio per 4 a 3 nella scorsa giornata Losca portiere numero 1 Gardella poi Ameli, Maltese, Dele Grottaglie, Pasotti, Montorsi, Ravano, Pos e Scotti dall'altra parte il portiere con numero 45 e Garavello poi Giacomasso, Guzzardella, Torti, Pampolini, Sala, Bastianello, Ortolani, Machiavelli, Marcello, Pellero e Machiavelli Francesco una buonasera a tutti da Sabino Palermo Possa l'indietro, Maltese Maltese avanza, Maltese il destro, alto Trastato al momento del tiro poi Machiavelli gli soffia letteralmente il pallone Pampolini contropiede Pampolini col Marcino benissimo Gardella Pellero poi uno contro uno Pellero sul mancino Machiavelli traversa incredibile la traversa di Machiavelli contro il piede dell'osca Giacomasso tutto mancino avanza il numero 14 addirittura col pallonetto traversa anche di Giacomasso incredibile uno contro uno ancora Ravano dall'altra parte c'è Montorsi servito benissimo Montorsi avanza Montorsi libera il destro Montorsi il palo sbaglia però Maltese recupera Maltese per posse è solo posse sbaglia un gol già fatto parte Scotti col destro sulla barriera ancora Scotti pallone fuori Pellero prova il numero supera un avversario messo giù da Scotti che verrà a Moneto a Moneto Scotti Pellero calcio di punizione vediamo se lancia lungo è così lunghissimo la rete da centrocampo trova un gol a Ronaldinho il numero 10 al diciannovesimo minuto segna Pellero 1 a 0 salto subito golaasso del numero 10 anzi Scotti 1 2 Scotti prova ad avanzare sulla fascia Scotti la mette in mezzo addirittura era un tiro traversa poi delle grottaglie salva tutto Garavello fa vedere ancora Montorsi 1 2 il destro fuori da parte di Maltese Maltese Scotti ancora Maltese pareggio della Comative segna al terzo minuto con il numero 33 Maltese dunque 1 a 1 pareggia Maltese il gol di Pellero Ortolani prova Ortolani trova un gol meraviglioso subito da 1 sento subito segna un gol sensazionale numero 17 Ortolani un gol più bello dell'altro arriva delle grottaglie come una furia poi Scotti avanza numero 11 la mette in mezzo quasi autogol coi pugni portiere calcio d'angolo Ameli poi delle grottaglie col ginocchio addirittura il portiere avanza Ameli fra i due avversari Ameli incredibile per Pasotti si libera di un avversario Pasotti lì dietro arriva delle grottaglie prova col mancino alto pressione Losca parte Maltese col destro si salva Garavello uno contro uno delle grottaglie sbaglia però Salah il contropiede Salah lancia lunghissimo Machiavelli Salah sul destro cosa sbaglia poteva chiudere la partita poi Maltese Ravano avanza numero 10 Ravano per Pos Pos per Maltese alto parte Ravano col destro il miracolo di Garavello e finisce qui prima vittoria stagionale per il Santo Subito che festeggiano vincono 2 a 1 grazie ai gol di Pellero dall'altra parte non basta il gol della bandiera di Maltese siamo qui con Garavello e Ortolani dei Santo Subito una prima vittoria prima vittoria stagionale era ora ci voleva dopo due sconfitte immeritate in parte la prima vittoria sento l'entusiasmo intanto da parte della squadra partiamo subito col portiere tra i protagonisti una grande prestazione anche la scorsa volta oggi è nata se possibile meglio a livello di risultato prima vittoria da molto morale come hai visto oggi la squadra no abbiamo giocato bene abbiamo difeso bene le altre volte sono stati sfortunati questa volta meno male abbiamo premiato appunto il fatto che abbiamo giocato abbiamo difeso e per una volta ci è andata bene quindi direi tre punti meritati oggi secondo te meritatissimi ci volevano questi tre punti se vuoi premiare qualcuno oggi di tuoi chi premi oggi bilanciati su tutti Orto oggi ha giocato e non è un caso quello abbiamo qua mi dai un grandissimo assist passa Mortolani un gol alla Alex Del Piero dalla mattonella con un girello meraviglioso per chi gioca a PES è R2 quadrato palla che gira all'angolino l'hai studiato così da Pro Evolution no più che altro con tutti gli allenamenti che ho fatto con Del Piero no a parte gli scherzi se devo vedere un errore l'ho stoppata male però fortunatamente sono riuscito a piazzarla nel 7 non essere modesto hai cercato l'angolino hai cercato l'angolino un gran gol direi più che il gol i tre punti che erano fondamentali il cammino si può dire che per voi comincia oggi sì diciamo di sì perché le ultime due partite le abbiamo perso negli ultimi 5 minuti oggi fortunatamente non abbiamo subito gol negli ultimi 5 minuti abbiamo vinto anche perché eravamo sempre in vantaggio ragazzi allora complimenti in bocca al lupo per il futuro e alla prossima ciao ragazzi ciao ragazzi esclusiva abbiamo la ricetta vincente dei santo subito siamo qui con facciamole presentare a loro Sabrina Roberta Sabrina e Roberta prima apparizione alcuna al campionato universitario e prima vittoria del santo subito un caso io direi di no sentiamo cosa ne pensano loro assolutamente non è un caso abbiamo portato fortuna e abbiamo supportato la nostra squadra e abbiamo portati alla vittoria quindi cosa vuoi aggiungere dalla prossima direi prima volta che veniamo vincono dalla prossima sempre direi direi dalla prossima sarete ancora qui lo confermate ovviamente e chiudetemi con un forza santo subito forza santo subito grandissime ragazze alla prossima ciao siamo qua con il mister della Locomotive Losca seconda sconfitta consecutiva sempre di misura dopo un avvio sprint un 2 a 0 convincente alla prima due sconfitte consecutive cosa c'è che non va in questa squadra secondo te mister che non va in questa squadra poco abbiamo sbagliato all'inizio l'approccio nella partita scorsa ma questa qui eravamo impostati bene abbiamo cambiato modulo ci siamo andati a fare sempre la solita storia più o meno 10 tiri a partita neanche uno che ci entra dall'altra parte due gol per lo meno uno casuale uno di bravura ma anche di fortuna insomma ci frega la precisione poco cinici e loro comunque vi hanno castigato su due episodi effettivamente due grandi gol il primo forse qualche responsabilità del portiere non l'ha visto è stata una carambola un po' strana che ha coperto a visore il portiere la stava seguendo in aria e poi è entrata in porta comunque mister direi la squadra è evidente che c'è le basi ci sono la squadra c'è quindi direi che per il futuro sicuramente l'obiettivo è tornare a vincere perché comunque questa squadra tornare a vincere però anche queste erano da vincere quindi adesso incominciamo a far entrare quei tiri che non ci sono entrati per due partite di fila e poi vediamo la losca sia qualcosa da dare per questo torneo perfetto grazie mille mister in bocca al lupo grazie a tutti